Che effetto le fai? Il sogno di Beatrice è diventato il sogno di Milaker? Sì, è diventato anche il sogno un po' di tutti, credo. Mi ha molto emozionato vedere che siamo andati oltre confine e che ci sia stata questa sensibilità da parte di questa cittadina che ha omaggiato Bassano di questa somma. Anche perché ci si rende conto che la realtà che si vive a Bassano è la realtà di tutto il mondo. Assolutamente sì. Quando si fanno dei lavori di abbattimento bisognerebbe puntare sempre l'occhio all'estero, alle città europee, alle città del nord che per molti versi sono molto avanti rispetto a tutta l'Italia, non sono Bassano. Però insomma io sono ottimista, auspico che la mentalità che otterremo presto sarà quella.